Out Vergani, prima convocazione per Aloy, un solo cambio rispetto all'undici che ha stravinto a Foggia Tutta, che agisce inizialmente sulla sinistra nel tridente d'attacco completato da Lescano e Desogus. Saggiamente Cuppone non viene rischiato dopo il bruttissimo incidente di gioco nella partita di Foggia. Monterosi a dir poco rimaneggiato, primo soprattutto della sua punta di diamante Rocco Costantino Abruzzese di Scerne di Pineto. Sei gol in quattro partite, comincia così la gara tra Pescara e Monterosi, fa girare la palla il Pescara, c'è la posizione di offside, questa era una bella combinazione, verticalizzazione di Craia per Mora, che è stato colto in posizione di offside dal secondo assistente del direttore di gara, Giaccaglia Di Iesi, che sarà contestato a fine partita dal presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Rivediamo dunque il gol realizzato dal Pescara, ma c'era stata già la segnalazione del Guardalini e poi il fisco dell'arbitro. Ci prova Craia da fuori, un tiro telefonato, poi ancora Pescara con il traversone di Cancellotti, l'area spinta e il destro al volo senza inquadrare lo specchio, ancora di Craia, che è stato pericoloso dunque nei minuti iniziali di questa partita. Craia preferito a Palmiero che entrerà nella ripresa, muove bene il pallone sulla destra, 22esimo, lo scambio tra Jabuà e Cancellotti, muove bene il pallone della Pescara, il cross dall'esterno destro, l'uscita di Alia, guardate, Mora, piatto chirurgico, calma olimpica, Pescara in vantaggio, terzo gol stagionale per il classe 1988, sempre più uomo squadra di questo Pescara, allenatore in campo, davvero un gran gol, adesso lo rivedremo. Poi lo faremo commentare anche da Fabio Ferraresi, tra l'altro molto simile a un gol che realizzasti tu contro il Martina Franca, se non vado errato, palla in buca d'angolo, piatto chirurgico, non era semplicissimo perché c'erano già due giocatori che erano andati a contrastare Mora dopo l'uscita di Alia classe 2000 a Scuola Lazio, guardate, un gol di classe, non c'è dubbio alcuno, Pescara in vantaggio, ma attenzione perché il Monterosi poi gestisce un po' e la Pescara, come ha detto Colombo, e sbaglia, c'è il colpo di testa di Verde, la grande risposta di Plizzari, tutto questo nel primo tempo il Pescara comincia a gestire, ad amministrare, sbaglia, atteggiamento, il Monterosi viene incoraggiato in questo senso, c'è il taglio di Carlini, uno dei tanti tagli che metteranno in difficoltà e la Pescara nella ripresa, alle spalle dei difensori Biancazzoni, bravo però nella circostanza Brosco a evitare il peggio, prima ammunizione per Jabuà, per questo contatto con Mende, guardate, il gigante, ma insomma qui ci sono molti dubbi, il calcio di punizione di Cancellieri con la palla che sorvola nella traversa della porta di Plizzari, siamo sempre sull'1-0, ammunito Jabuà, una munizione molto ma molto discutibile, poi ancora Monterosi con questo tentativo del numero 18 parlati, qui secondo noi l'ammunizione c'è, perché da Tergo interviene Jabuà, rivediamo, non colpisce il pallone, ma il piede del numero 18 parlati, ex Ascoli, scatta il secondo giallo, 59esimo, Pescara in 10 uomini, espulso Jabuà e quindi prende ancora più coraggio la formazione ospite di Paolo Antonio per verde e la sua volée, bravo Plizzari che non si fa trovare impreparato, intanto viene espulso anche per proteste il direttore sportivo della Pescara, Daniele Dellicarri, di Paolo Antonio entrato nel Monterosi, cambierà la partita in qualche modo, il Monterosi in superiorità numerica e c'è il palo clamoroso, il legno colpito da parlati dopo l'ottima sponda pregevole di Carlini, poi in fuorigioco di Renzo Pescarese, schierato titolare nel 4-4-1-1 disegnato da Leonardo Menichini, dunque prime avvisaglie, il Pescara soffre in questa fase della partita, ancora una bella combinazione, pallone in mezzo, il destro ancora di parlati che però non inquadra lo specchio, la posizione più che privilegiata, il massimo sforzo del Monterosi, il Pescara però raddoppierà, azione piuttosto confusa, c'è l'anticipo di un giocatore del Pescara e poi il sinistro magico, un gioiello di Cancellotti con la piede debole, un gol fantastico, meraviglioso, nel momento di maggiore sofferenza del Pescara, siamo al minuto 75, a 15 della fine, più recupero, il Pescara raddoppia in 10 uomini, espulso Giabuà, un grandissimo gol, quello realizzato da Tommaso Cancellotti, ironia della sorte, sembrava essere il primo in lista di sbarco in estate, invece è uno dei migliori, ha conquistato la fiducia, allenamento dopo allenamento, a parte del tecnico Colombo e questo è un gol che rimiriamo, davvero straordinario, il gioiello di Cancellotti, 2-0, sembra fatta ma così non è, vediamo il destro di De Sogus, Cuppone è entrato in corso d'opera al posto di Lescano, Cestina, il 3-0 col portiere praticamente ormai fuori causa, spedisce in curva, poi Palmiero, anche gli è entrato, la verticalizzazione per Cuppone che fa tutto molto bene, poi colpisce il palo, sfortunato il Pescara che va ad un soffio dal 3-0, manca pochissimo, siamo al minuto 78 nel corso di questa partita, il Pescara conduce 2-0, il gioiello, la meraviglia di Di Paolo Antonio, 168 partite nel Teramo, Teramano Doc, entrato in corso d'opera, palla sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per l'estremo difensore Pizzari, dunque il Monterosi resta aggrappato al risultato, il Monterosi che gioca con un uomo in più dal 59esimo, espulso Jabua, la perla, la magia di Di Paolo Antonio, siamo al 79esimo, ora all'83esimo con questo tentativo del numero 19 Piroli, salva, porta il risultato Mora sulla linea di porta praticamente con Pizzari fuori causa e poi Pizzari il riflesso prodigioso sul tentativo di testa di Carlini e poi deviato da Milani, è stata una super parata ma sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, il sinistro di Cancellieri, vede il pallone all'ultimo momento, fa quel che può Pizzari e il tap-in di Carlini, classe 86, 36 anni, ex Frosinone, siamo al minuto 87, 2-2 tra Pescara e Monterosi, Monterosi sotto di un gol con un uomo in più dal 59esimo, espulso Jabua, rivediamo il sinistro di Cancellieri, pallone deviato da qualcuno, vede all'ultimo momento Pizzari il pallone, fa quel che può, rispinge la sfera proprio sul destro al volo di Carlini che fredda, l'estremo difensore Biancazzurro, sono quattro minuti di recupero decretati da Giaccaglia della sezione di Iesi, il Pescara continua ad attaccare con questo cross su calcio da fermo di Palmiero, ma nessun esito da parte del Pescara con il tentativo di testo operato da Cuppone, siamo praticamente alle battute finali, arriva il triplice fischio, il primo pareggio in campionato per il Pescara, onore al Monterosi, risultato giusto, 2-2.